pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica incontriamo un testo meraviglioso dove Gesù ci conduce a cogliere a riscoprire la verità profonda dell'amore sponsale e dell'accoglienza da riservare ai bambini andiamo al testo dei farisei mettono alla prova Gesù e gli chiedono maestro è lecito o no per un uomo ripudiare la propria moglie la legge di mosea accordava al marito di poter rimandare la moglie se avesse trovato in lei un fatto indecoroso così deuteronomio 24 1 al tempo di Gesù c'erano almeno due scuole di pensiero due scuole rabbiniche che cercavano di interpretare questo passo c'era una scuola più rigorista di shammai che ammetteva lecito il ripudio solo in caso grave di tradimento la scuola di hillel un po più lassista permetteva invece il ripudio da parte del marito per qualsiasi cosa ad esempio se la moglie non cucinava bene il marito la poteva pure lasciare Gesù non entra in questa casistica assurda ma riporta tutto alla santità dell'origine e specifica mosevi ha permesso ciò per la durezza del vostro cuore in greco sclerocardia un termine tecnico che indica l'indurimento proprio del cuore che nella bibbia è la serie delle decisioni della volontà e anche dei sentimenti dunque per venirvi incontro vi ha dato questa possibilità ma dall'inizio non fu così dio li fece maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà sua moglie e i due diventeranno una carne sola l'uomo dunque non separi ciò che dio ha unito verete il sogno di dio da sempre è questo e la verità profonda dell'amore è questa l'amore vero lo sappiamo bene non è a tempo a condizione finché mi va versione una cravatta oggi me la metto e domani la tolgo non è questo questo è lo svilimento dell'amore e il camuffamento egoistico dell'amore a causa della durezza del nostro cuore cosa che Gesù è venuto a risolvere perché Gesù non è venuto solo a ricordarci qual è il sogno il disegno di dio ma soprattutto è venuto a renderci capaci di viverlo questo è vangelo e buona notizia in lui diventiamo capaci di amare così di poter amare veramente per sempre fino alla fine come lui che così ci ama sempre completamente fino in fondo ecco perché la chiesa difende la bellezza del matrimonio che è via di santificazione dove i coniugi sono l'uno per l'altra via il cielo segna posto dell'altro con la maiuscola che li guida li conduce li santifica perché insieme possano aprirsi alla vita ricordo che una volta ci diede un passaggio in auto stop un uomo eravamo in pellegrinaggio e questo uomo condivideva la sua vita a un certo punto iniziamo a parlare di famiglia di rapporto di coppia e quant'altro e lui disse pieno di sé io convivo e non ho alcuna intenzione di sposarmi e fin qui scelta legittima gli abbiamo chiesto il motivo la risposta fu particolare lui disse noi non ci vogliamo sposare con la mia compagna disse perché noi ci amiamo davvero ah in che senso noi stiamo insieme conviviamo perché ci amiamo qualora un domani non ci amassimo più ci lasciamo beh però che prospettiva particolare ma l'altra faccia della medaglia l'hai pensata qual è che questo è egoismo perché finché l'altra persona mi va e mi sta bene la tengo quando non mi andrà più la lascio capite bene miei cari l'amore vero è il dono di sé ed è per sempre e gesù ricorda i due non saranno più due ma una carne sola è l'avventura meravigliosa del diventare veramente un noi il giorno del matrimonio nel sacramento dio opera e unisce profondamente le anime dei due ma è poi un cammino di tutta la vita diventare davvero un noi amandosi ascoltandosi venendosi incontro aiutandosi comunicandosi amore con i gesti con le parole con il tempo donato l'avventura meravigliosa del diventare ed essere una cosa sola con dio e tra noi questo non ci legittima a guardare distorto a discriminare chi purtroppo per un motivo per un altro affronta il dramma del fallimento matrimoniale che può essere arrivato per mille motivi anzi con ancora più cura premura e tenerezza siamo chiamati ad accompagnare le situazioni ferite e le persone che cercano in un modo in un altro di ripartire ricostruire in qualche modo la loro vita infine ecco il rapporto con i bambini a quel tempo considerati poca cosa i discepoli vorrebbero impedire i bambini di andare da gesù e gesù dice discepoli lasciate che i bambini vengano a me non glielo impedite frase che dovremmo lasciar risuonare in tante case in tante famiglie non glielo impedite lasciate che vengano a me perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli e chi non accoglie il regno di dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso i bambini ci fanno scuola tante volte nel modo di pregare di relazionarsi con dio nella spontanea fiducia che hanno in dio quando cresciamo tante volte purtroppo perdiamo di vista questa santa semplicità ci complichiamo ci riempiamo di scrupoli quanto è bello vedere i bambini pregare quanto è bello vedere i bambini fidarsi di dio si racconta che una volta una comunità si riunì invocando da dio il dono della pioggia una zona molto molto arida andarono lì a pregare per chiedere aiuto al signore si riunirono insieme al parroco e che sorpresa quando la bambina la più piccola del gruppo tirò fuori il suo ombrellino lei era già sicura che la pioggia sarebbe arrivata chiediamo al signore che ci aiuti a riscoprire sempre più la verità dell'amore amore coniugale amore sponsale a cui tutti in un modo in un altro siamo chiamati e ad accogliere con sempre maggior fiducia semplicità e amore il signore lasciando che i piccoli ci facciano scuola e aiutando i piccoli che abbiamo accanto ad incontrare a scoprire e a conoscere la bellezza di gesù e del suo amore per noi che il buon dio vi benedica pace bene a tutti